Sul Monte Carso, sempre in Val Rosandra, che è avvenuta la scoperta più importante ad opera del gruppo grotte dell'Associazione 30 Ottobre di Trieste. In una breve cavità sono state rinvenute, sparpagliate sul terreno argilloso, le ossa di una quindicina di orsi delle caverne, specie scomparso ormai da 15.000 anni. Per il grande interesse archeologico, la sopraintendenza del Friuli Venezia Giulia ha chiuso l'accesso alla cavità e quindi queste rimangono le uniche eccezionali immagini della grotta e della sua scoperta. Ma siamo certi che il Carso Triestino può ancora riservare delle incredibili sorprese.